non c'è niente da sorridere volevo solo dire se hai le ali perché non volare se ti chiedessi di prendere la mia virginità sarebbe un problema no nessun problema devi chiedere a lui se vuole fare sesso con me sì mi chiamo giù e sono una linfomane sesso dipendente noi diciamo sesso dipendente questo lo so per te va bene se mostro ai bambini il letto dove scopate non ho mai incontrato un pessimo essere umano adesso sì forse l'unica differenza fra me e gli altri è che io ho preteso di più dal tramonto colori più spettacolari quando il sole arriva all'orizzonte forse è questo il mio unico peccato grazie